Ciao, in questo video voglio commentare con voi l'esito di queste elezioni europee, non in Italia ma negli altri 26 paesi dell'Unione. Le elezioni si sono appena concluse, alcuni paesi hanno prodotto dei risultati inaspettati, altri sono stati ben più prevedibili, ma c'è molto materiale interessante su cui riflettere. Cominciamo. Anzi, prima di cominciare, grazie a chi sta guardando questo video, mi chiamo Mirko Paradiso, sono un giornalista e content creator che abita a Bruxelles da oltre tre anni. Seguo per lavoro molto da vicino la politica europea e credo che spesso questa sia riportata in Italia in maniera superficiale e con una prospettiva fin troppo italiana, alcune volte, che non tiene conto delle prospettive degli altri paesi. Per questo ho deciso di rilanciare questo canale dopo quasi tre anni. Per capire l'Unione Europea è importante capire i paesi e i popoli che la compongono, vi consiglio di scriverli, l'intenzione è quella di pubblicare un video a settimana in cui discuteremo che cos'è l'Unione, chi sono le persone che la abitano, la sua cultura, e le sue peculiarità. Andremo poi fisicamente in tutti i paesi membri a parlare di politica, musica, sport, cibo, economia. Sto studiando diversi format e c'è moltissimo materiale su cui lavorare. Quindi iscrivetevi, questo è solo l'inizio di un grande viaggio. Ma torniamo al soggetto principale di questo video, i risultati delle elezioni europee negli altri paesi, quindi non in Italia. Cominciamo questa maratona dai paesi più importanti per poi andare verso i paesi più piccoli. Sarà un video lungo, lo so, ho speso tutta la nottata delle elezioni all'interno del Parlamento europeo a raccogliere dati, osservazioni, e c'è un sacco di materiale di cui discutere. E dobbiamo fare un'analisi di ben 26 paesi. Una premessa, non tutti i risultati a mia disposizione sono definitivi ancora oggi, lunedì, il giorno dopo le elezioni, quindi potrebbero esserci stati dei leggeri cambiamenti da quando ho filmato questo video rispetto a quando voi lo state guardando. E perdonatemi se dovessi fare qualche errore, ci sono centinaia di partiti da menzionare per 26 paesi, dunque potrei aver fatto confusione da qualche parte, ma spero di no. Premessa fatta, bando alle ciance, cominciamo. E cominciamo ovviamente dalla Germania, il paese più grande e influente dell'Unione Europea. Le elezioni sono state vinte dalla sede U di Friedrich Merz all'opposizione del governo nazionale dopo l'uscita di scena di Angela Merkel nel 2021. La sede U ha conquistato il 30% dei voti e circa 30 seggi. E questa è una grande vittoria anche per Ursula von der Leyen della sede U, che acquisisce punti per un secondo mandato come presidente della commissione. A seguire, il partito di estrema destra, Alternative for Deutschland, AFD, guidato da Alice Weidel e Tino Chrupalla, che ha conquistato un incredibile 16% e 16 seggi. Alternative for Deutschland è stata votata specialmente nella Germania Est e dalle fasce di popolazione più giovani, e ci sarà poi tempo di fare analisi più dettagliate su questo risultato. Il partito era stato recentemente espulso dal gruppo Identità e Democrazia per dei commenti troppo favorevoli al nazismo e alle SS recentemente, e vedremo dove andrà a sedere nel Parlamento Europeo in futuro. Solo dopo la CDU e la AfD troviamo i partiti della coalizione di governo, che supportano il cancelliere Olaf Scholz, la SPD, i Verdi e i Liberali. I socialdemocratici della SPD hanno avuto un risultato più basso della loro storia, con solo 14% e 14 seggi, e i Verdi di Annalena Baerbock e Robert Habeck, 12, e i Liberali di Christian Linder, solo 5. La coalizione di Scholz ha subito un colpo molto duro, ma sono i Verdi che hanno subito una grande debacle. La campagna elettorale è stata anche molto violenta in Germania, con attacchi e aggressioni diretti specialmente verso i Verdi. Ultima menzione sulla Germania, il movimento di estrema-sinistra e rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che dopo essersi distaccata dal partito di estrema-sinistra di Linke, ha fondato il suo movimento e ha conquistato il 5% e 5 seggi. Sarah Wagenknecht è in linea col pensiero di AfD su molte tematiche. La Francia ha portato il risultato più scioccante, per quanto prevedibile, di queste elezioni. Le elezioni hanno visto un trionfo su tutta la linea del Rassemblement National di Marine Le Pen e del suo candidato di punta al Parlamento europeo, il 28enne Jordan Bardella. Rispetto al 2019, il Rassemblement National ha guadagnato circa 8 punti, arrivando oltre il 35%, e guadagna ora circa 30 seggi al Parlamento europeo. Scendendo poi di ben 15 punti, troviamo la lista bisogno d'Europa di Emmanuel Macron. La lista ha guadagnato 14 seggi, un risultato disastroso per Macron, che infatti ha sciolto l'Assemblea Nazionale solo dopo pochi minuti di exit polls e ha lanciato nuove elezioni il 30 giugno, tra meno di tre settimane a partire da ora. Io non sapevo neanche fosse possibile organizzare elezioni così velocemente. Il Partito Socialista, guidato da Raphael Glucksmann, ha preso circa il 13% dei voti. Un risultato estremamente positivo, considerando che il Partito Socialista, quello dell'ex presidente francese Hollande, era quasi scomparso dai radar politici e sta ora raccogliendo nuovi consensi con Glucksmann. Nel 2019 il Partito Socialista prese solo il 6% dei voti. A seguire in velocità troviamo poi la Francia Insoumise di Mélenchon, con 7-8% e 8 seggi, i Repubblicani che sprofondano 7% e 6 seggi, e al 5% e 5 seggi il Movimento La Francia Fiera di Éric Zemmour, anche lui di estrema destra e alleato di Giorgio Meloni in ECR. Anche i verdi francesi di Yannick Jadot hanno subito un collasso dalle scorse elezioni europee, dove erano arrivati al 13%, mentre questa volta si sono fermati solo a meno del 5% e 5 seggi. Prima di andare avanti ricordiamo che Francia e Germania sono i due paesi più importanti dell'Unione Europea, ma non sono tutta l'Unione Europea, né i loro risultati sono rappresentativi del resto dell'Unione. Ma andiamo avanti. In Spagna ora, dove a vincere le elezioni, è stato il Partito Popolare di Feijó, che ha conquistato il 34% dei voti e 22 seggi. Seguito poi dal Partito Socialista di Pedro Sánchez con il 30% e 20 seggi. In campagna elettorale in Spagna sono volati stracci tra il conservatore Feijó e il socialista Sánchez, con scambi di accuse molto forti tra i due, che hanno anche riguardato indagini di corruzione riguardanti la moglie di Sánchez. Andando oltre, il partito di estrema destra Vox di Santiago Abascal vince il 10%, circa dei voti, e 7 seggi, guadagnando 3 seggi al Parlamento Europeo, ma perdendo un paio di punti rispetto alle elezioni nazionali dell'anno scorso. Sumare il partito di Olanda Diaz di sinistra, alleato del PSOE di Sánchez, guadagna il 6% e circa 4 seggi, mentre Podemos 4% e 2 seggi. Andiamo ora in Portogallo, dove solo tre mesi fa si erano tenute le elezioni generali, che avevano portato il centrodestra del partito socialdemocratico di Luís Montenegro al potere, con un governo di minoranza. Per i nove anni precedenti il paese era stato guidato dalla sinistra del partito socialista di Antonio Costa. I due partiti hanno conquistato entrambi i 7 seggi al Parlamento Europeo, attestandosi intorno al 30%, ma con un relativo vantaggio del centrosinistra, che torna ora in vantaggio sul centrodestra. Cega è il partito di estrema destra di Andrea Ventura, che ha preso il 18% dei voti alle scorse elezioni nazionali, si ferma ora al 9%, con un arrettramento molto importante, e viene superato dalla iniziativa liberale un partito centrista. Entrambi hanno conquistato due seggi. Spostiamoci per l'Europa centro-orientale e la Polonia. Qui il partito di governo coalizione civica di centrodestra del primo ministro Donald Tusk ha vinto nettamente le elezioni con circa il 38% dei voti e 21 seggi, staccando di circa 4 punti il partito di legge e giustizia del presidente Andrzej Duda, partito di estrema destra ed alleato di Giorgia Meloni nelle Siar. La Polonia era andata ad elezioni generali l'anno scorso e Tusk aveva vinto coalizzandosi con il centro di Polonia 2050 e il centrosinistra di Nuova Sinistra, ma il partito di legge e giustizia era comunque arrivato primo. A distanza di un anno circa, la coalizione civica di Tusk ha dunque guadagnato punti e il suo partito ne esce rafforzato e il primo ministro sarà un player molto importante nelle prossime scelte dell'Unione Europea. Tusk aveva detto in campagna elettorale che queste elezioni erano le più importanti dal 1989, dall'indipendenza della Polonia, riferendosi alla necessità di battere l'estrema destra e difendere l'Ucraina, ma anche la Polonia stessa dalla Russia e dai suoi attacchi. Il partito di estrema destra Confederazia, ancora più a destra di legge e giustizia, ha guadagnato l'11,9% e avrà sei seggi, e i leader hanno dichiarato questa come la maggior vittoria di sempre per il partito. L'affluenza per la Polonia è stata di circa il 40%, e questo è un numero ben più basso rispetto al 2019, dove il dato era stato di circa il 46%. Spostiamoci ora poco più a sud della Polonia in Repubblica Ceca, uno dei paesi con la popolazione più euroscettica dell'Unione. Le previsioni qui si sono rivelate corrette a vincere nel paese è stato il partito di azione dei cittadini insoddisfatti, chiamato anche Anno 2011, un partito centrista dell'ex primo ministro Andrzej Babic, che ha vinto il 26% dei voti e conquistato 7 seggi in totale al Parlamento europeo. Il partito sarebbe in teoria un partito centrista, ma col tempo Babic lo ha trasformato in un partito populista ed ero scettico. Anno ha fatto campagna descrivendo il voto come un referendum sulla coalizione di destra-centro di governo insieme, chiamata in cieco Spolu. Babic ha accusato Spolu di aver riempito il paese di migranti e di voler cedere tutta la sovranità alle istituzioni europee. Suona familiare? Anno comunque non ha conquistato una vittoria storica, in quanto Spolu, l'alleanza guidata dal primo ministro Peter Fiala, ha preso il 22% circa dei voti e ha conquistato 6 seggi, uno in meno di Anno. I partiti membri della coalizione di governo durante la campagna hanno affermato di voler preservare l'eredità democratica della Repubblica Ceca contro il populismo e l'estremismo degli altri partiti. Due seggi sono stati poi conquistati dall'alleanza populista-motorista, e se vi chiedete cosa sia un partito motorista, è un partito che fa gli interessi degli automobilisti ed è in favore delle infrastrutture di trasporto contro il trasporto sostenibile, formatosi circa nel 2022. Il gruppo è stato accusato di avere delle simpatie neonaziste. Altri partiti particolari in Repubblica Ceca, quello dei Pirati, un partito liberale progressista che aveva conquistato il 12% alle scorse elezioni, ma che si è fermato al 6% e ha conquistato un solo seggio. Altra sorpresa in Cecchia, il movimento di estrema sinistra Stacilo, che ha conquistato due seggi. In Romania le elezioni sono state ampiamente vinte dalla coalizione di governo, formata dal Partito Socialdemocratico e dal Partito Liberale Nazionale, fondata nel 2021, che ha conquistato il 53% dei voti e 21% dei 32 seggi. La coalizione esprime il presidente Klaus Ioannis e il primo ministro Marcel Ciolacu. Essendo una coalizione di due partiti di ideologie diverse, è probabile che i candidati siederanno in gruppi politici diversi e dunque romperanno in due la delegazione al Parlamento Europeo. Il partito di estrema destra, Alleanza per l'Unione dei Romeni, ha vinto il 15% dei voti e 6 seggi. Si tratta di un partito nazionalista ed estremista che ha fatto molta campagna sui social media. A seguire poi l'Alleanza della Destra Unita, di centro-destra, con 11% e 4 seggi. Nella vicina Bulgaria, invece, si votava sia per le elezioni europee che per le elezioni nazionali, le seste elezioni anticipate dal 2021, dato l'alto status di instabilità della politica bulgara. Le elezioni nazionali ed europee sono state vinte dal partito di centro-destra, cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria, anche chiamato colloquiamente GERD. Dell'ex, ma anche probabile futuro, primo ministro Boiko Borisov, già capo del governo dal 2009 al 2021. Il partito ha conquistato 5 seggi al Parlamento Europeo e il 23% dei voti. L'Alleanza avversaria, continuiamo il cambiamento Bulgaria-Democratica, guidata dall'ex primo ministro Kirill Petkov, ha invece guadagnato il 16% dei voti e 3 seggi. Il partito di estrema destra, l'ultranazionalista e pro-russo Revival ha guadagnato il 15% dei voti e 3 seggi, mentre il Movimento per i diritti e la libertà di centro, anche 3 seggi con il 14% dei voti. Pesante scoffitte, invece, per il partito socialista bulgaro, che perde 3 seggi e ne vince solo 2 con meno dell'8%. E spostiamoci in Benelux, la regione europea formata da Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Cominciamo dai Paesi Bassi, il paese più ricco e popoloso del gruppo e dalla politica molto molto frammentata. Nei Paesi Bassi si era votato lo scorso novembre per le elezioni nazionali, che avevano portato ad un risultato del tutto inaspettato la vittoria relativa del Partito per la Libertà di Gerfielders. Nelle ultime settimane Wilders era riuscito a chiudere preventivamente un accordo di coalizione con il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, il VVD del primo ministro Mark Rutte, con il Movimento Civico Contadino, il famoso BBB, e il partito di recente formazione Nuovo Contratto Sociale, per formare un governo guidato dall'anonimo Dick Schoff, ex capo dei servizi segreti del paese, considerato una figura neutra tra i diversi partiti. Wilders in questa situazione sarà un primo ministro ombra, ma rispetto a quelle elezioni il partito di Wilders in queste elezioni ha perso alcuni punti, ma ha comunque conquistato 7 dei 31 seggi e il 17% dei voti, un grandissimo risultato rispetto al singolo seggio conquistato nelle europee del 2019. Ma il vincitore relativo di queste elezioni europee nei Paesi Bassi è Franz Timmermans, e la sua alleanza tra Sinistra Verde e Partito del Lavoro, che ha conquistato il 21% e 8 seggi, perdendone però uno rispetto al 2019. Da notare però che la delegazione si dividerà, poi nel Parlamento europeo, tra Verdi e Socialisti, e che questa era un'alleanza elettorale. Il Movimento Civico Contadino, che più che un movimento ora è un partito a tutti gli effetti, porterà due parlamentari al Parlamento europeo per la prima volta, e ha annunciato che si unirà al Partito Popolare europeo, dunque al centrodestra. Il movimentismo è diventato un sistema. Il partito di Rutte, ora guidato da Dylenge e Galzagarius, sperde un parlamentare e porta a una delegazione di quattro parlamentari. Il partito, il cui acronimo è VVD, verrà probabilmente espulso dal gruppo parlamentare di centro Renew Europe, per via dell'alleanza fatta con l'estrema destra di Wilders a livello nazionale. I partiti cristiano-democratico di centrodestra e il partito centrista D66 vencono tre seggi ciascuno, mentre Volte di centro ne vince uno solo per la prima volta nella storia del Paese. Anche nel Gran Ducato di Lussemburgo si è votato per le elezioni generali nel 2023 e queste avevano portato alla vittoria del partito cristiano-democratico di Luc Franden e dell'ex presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Di centrodestra molto moderato. Su un altro partito di centrodestra liberale, il partito democratico dell'ex primo ministro Xavier Bettel e sul partito socialista dei lavoratori di Paulette Lenert. Ora, il Lussemburgo è un paese estremamente europeista ed è estremamente influente a livello europeo, nonostante sia un paese minuscolo. Lo Spitzenkandidat dei socialisti, Nicola Schmidt, è anche lui lussemburghese e potrebbe essere riconfermato contro il candidato del CSV, Christopher Hansen. Le elezioni sono state comunque vinte dal partito cristiano-democratico, che col 22,9% conquista due seggi, mentre il partito democratico ne ha vinto solo uno col 18%. Il partito socialista è arrivato secondo, al 21,7%, e a una distanza molto ristretta dai cristiano-democratici, però hanno vinto un solo seggio. In Belgio ora, dove si votava non solo per le elezioni europee, ma anche per le elezioni nazionali. Vivendoci, posso dirvi che il Belgio ha uno dei sistemi politici più complessi da capire e frammentati di tutta l'Unione Europea, anche a causa della presenza di diverse comunità che vivono insieme nel paese. Il Belgio è una federazione, fatta di comunità linguistiche e comunità regionali, divisi dunque per lingue, il fiammingo, il francese e il tedesco, e le regioni, le fiandre, la vallonia e Bruxelles capitale. Questo crea un sistema di partiti molto diversi e variegati, con molti partiti regionali e alcuni partiti politici, pochi, che esistono anche a livello nazionale. Al governo, fino ad ora in Belgio, c'era Alexander de Croux, politico centrista fiammingo, sostenuto da partiti di centro, centrodestra, verdi, centrosinistra, di tutte le comunità. Ma le elezioni regionali, nazionali ed europee, hanno portato al trionfo di due partiti fiamminghi di estrema destra. Il primo è Vlams Belang, interesse fiammingo, partito di estrema destra fiamminga, che ha vinto il 14% dei voti a livello europeo e il 18% a quello belga, facendo politica per la secessione delle fiandre, la regione settentrionale e più ricca del Belgio, prendendosi anche Bruxelles, città storicamente fiamminga, ma oggi principalmente francofona, lasciando poi da solo la vallonia. Il partito si oppone ovviamente anche al multiculturalismo e si professa per il nazionalismo fiammingo. L'altro partito che ha ottenuto poi un grande successo è quello della nuova alleanza fiamminga, al 12 e 15%, sempre di destra, che propone invece una versione più soft della secessione dal Belgio, volta a creare un sistema confederativo, non stati diversi. Fa parte di ACR, sia Vlams Belang che la nuova alleanza fiamminga hanno vinto tre seggi ciascuno. Successivamente, il partito liberale francofono, il movimento riformista, che conquista 12 punti e anche lui tre seggi. Dopo troviamo il partito dei lavoratori del Belgio, un partito marxista di estrema sinistra, il partito cristiano-democratico fiammingo, il partito verde nazionale Ecolo, il partito socialista fiammingo, tutti con due seggi. Mi fermo qui, ma ci sono almeno altri cinque partiti che hanno ottenuto uno o due seggi per il Belgio, a sottolineare tutta la fermentazione che vi descrivo prima. Andiamo ora in Grecia, dove la campagna elettorale ha ruotato anche qui su tematiche più interne che su altro, in particolare sull'aumento dei prezzi e su diversi scandali che hanno colpito il governo. Le elezioni sono comunque state vinte dal partito di governo Nuova Democrazia di centro-destra del primo ministro Mitsotakis, con il 28% dei voti e sette seggi, ma il partito perde ampiamente terreno rispetto alle elezioni nazionali dal 2023, dove Nuova Democrazia aveva conquistato circa il 40%. Mitsotakis ha sofferto anche una perdita di consensi dopo l'approvazione della legge sui matrimoni omosessuali, che ha portato un pezzo della politica vicino alla chiesa ortodossa e dei circoli più conservatori ad allontanarsi dal partito. Sirisa, partito di sinistra populista, prende circa il 15% e quattro seggi, dopo che recentemente ha cambiato leadership. Il partito è stato preso in mano da Stefanos Kesselakis, che sta spostando il partito su posizioni più centriste rispetto al periodo del precedente leader, Alexis Tsipras. Questo ha spaccato il partito e portato diverse fuoriuscite, ma il partito, fino ad ora, sembra aver tenuto. PASOK, lo storico partito greco di centrosinistra, arriva poco distante, al 13%, e guadagna due seggi. Insieme, PASOK e Sirisa potrebbero superare Nuova Democrazia, qualcosa di impensabile solo un anno fa. Mentre il partito neofascista erede di Alba Dorata, agli spartani non è stato ammesso alle elezioni, Soluzione Greca, sempre di estrema destra, vince due seggi con il 9% dei voti. Soluzione Greca diventa quindi il partito più importante di estrema destra in Grecia. Il partito comunista greco vince anche due seggi, mentre l'altro partito di estrema destra ed estremista cristiano ortodosso, chiamato Vittoria, ne prende uno solo. A Cipro adesso, unico paese dell'Unione Europea ad essere una repubblica presidenziale. Il presidente, Nikos Christudelis, indipendente di centrodestra, è stato eletto nel 2023. Il partito di centrodestra, raggruppamento democratico che sostiene Christudelis, ha vinto largamente le elezioni con il 24% dei voti e due seggi, mentre il partito progressista dei lavoratori, di opposizione, si ferma al 21% e vince un solo seggio. Il fronte nazional popolare, neofascista ed euroscettico di estrema destra, arriva all'11% e vince un seggio. Particolare interessante, Fidias Panayotu, un collega youtuber, cipriota con circa 2 milioni di iscritti, ha corso come indipendente, è vinto il 19% dei voti e un seggio al Parlamento Europeo senza avere particolari idee politiche. Un risultato incredibile. E andiamo in Svezia, il maggiore tra i paesi scandinavi. Le elezioni europee qui sono state vinte senza troppe sorprese dal partito socialdemocratico dell'ex primo ministro Magdalena Andersson, che conquista il 25% dei voti e 5 seggi. A seguire poi arriva il partito dei moderati, partito leader del governo di minoranza, con a capo il primo ministro Ulf Kristersson, che si ferma al 17,5% e vince 4 seggi. I democratici svedesi, partito di estrema destra che supporta esternamente il governo di Kristersson, crolla al 13% dei voti, dopo che alle elezioni di due anni fa era arrivato al 21%, un punto sopra i moderati. Uno scandalo venuto fuori prima delle elezioni ha colpito il partito di estrema destra. I dirigenti degli svedesi democratici avrebbero creato infatti delle fabbriche di troll che avevano il compito di lanciare attacchi online e sui social media ai propri avversari politici, inclusi il governo che loro stessi sostengono. Questa scoperta è costata loro diversi voti. Ottima performance invece arriva per i verdi svedesi che arrivano quasi al 14% e conquistano tre seggi, seguito poi dal partito sinistra che arriva all'11% e conquista due seggi. I partiti liberali e cristiano-democratici che supportano Kristersson si fermano tutti sotto il 10%. In Finlandia dove dal 2023 c'è un governo di estrema destra guidato da Petteri Orpo della coalizione nazionale di centrodestra e supportato dal partito di estrema destra anche qui i finlandesi. Qui il partito di Orpo vince le elezioni con il 24% dei voti e quattro seggi mentre il partito dei finlandesi anche qua subisce un crollo dal 20% del 2023 al 7% di queste elezioni arrivando a prendere un solo seggio. La grande sorpresa di queste elezioni in Finlandia è stata invece la sinistra-sinistra di VAS Alleanza di Sinistra un partito alleato dei social-democratici dell'ex governo di San Marín che si era opposto all'ingresso della Finlandia nella Nato. Il partito ottiene il 17% e tre seggi. Il partito social-democratico dell'ex primo ministro Marín invece si ferma al 14% in discesa dal 20% delle scorse elezioni e conquista due seggi dunque ha lasciato diversi voti a VAS. Il partito centrista KESC e i verdi del VHR anche loro conquistano due seggi ciascuno. E infine per i paesi scandinavi la Danimarca paese guidato dal 2019 d'ammette Fredriksen del partito social-democratico ma supportato anche dal centro-destra. Fredriksen è una leader molto apprezzata nel centro-sinistra europeo ma è anche una delle leader di sinistra più dure sull'immigrazione che ha adottato posizioni non troppo diverse da quelle di partiti molto più conservatori come Rishisuna che nel Regno Unito anche lei aveva contemplato l'idea di spostare i richiedenti asilo in Rwanda. Ma il primo partito in Danimarca è a sorpresa la Sinistra Verde che è un partito di opposizione al governo Fredriksen con il 17% e tre seggi. La Sinistra Verde era stata alleata di Fredriksen nello scorso governo ma poi Fredriksen aveva preferito formare un governo con partiti di centro e centro-destra. La Sinistra Verde comunque condivide in parte le posizioni anti-immigrazione di Fredriksen. Ottimo risultato anche per Venstre il partito liberale danese alleato di Fredriksen in risalita dopo un periodo di difficoltà che arriva al 14% e prende due seggi. Possiamo quindi notare che in tutti i paesi scandinavi c'è stato un crollo dei partiti di estrema destra a vantaggio di partiti di sinistra più moderata sinistra verde ed estrema sinistra alla faccia dell'ondata nera. Andiamo ora nei tre paesi baltici tre piccoli paesi di cui si sa spesso poco e la cui politica non è molto approfondita. Si tratta di paesi con posizioni molto nette contro la Russia e in favore dell'Ucraina per esempio che però al contempo hanno una larga fetta di popolazione che è di origine russa ed è russofona. Un paradigma molto peculiare. Cominciamo dalla Lituania il più grande dei paesi baltici una repubblica semipresidenziale guidata dal presidente indipendente Gitanas Naoseda appena rieretto e che ha come primo ministro la conservatrice Ingrida Simonite ossia la persona che aveva sfidato Naoseda alle scorse presidenziali un paio di mesi fa e anche nel 2019 perdendo entrambe le volte. Presidente e primo ministro non si sopportano molto e hanno una lunga storia di bisticci tra loro. La campagna elettorale ha ruotato specialmente attorno alle questioni di sicurezza e ha il bisogno di contrastare l'influenza e l'interferenza russa nel paese. La Lituania è uno dei paesi più pro-europeisti in assoluto dunque non si è nemmeno sentito il bisogno di dibattere su tematiche europee più di tanto. Ad ogni modo le elezioni sono state vinte dall'Unione Patriottica i conservatori lituani che esprimono il primo ministro Simonite che prendono il 21% e tre seggi. A seguire i social democratici di opposizione ma che supportano il presidente Naoseda con il 18% e due seggi. i verdi arrivano qui al 9% con un seggio e il partito liberale Las Ves guadagna anche un seggio con l'8%. In Lettonia ora un paese dalla politica estremamente complessa per quanto piccolo è formato come dicevo da gruppi etnici diversi in cui circa un quarto della popolazione è russofona. Il paese per quanto pro-europeista svolge un ruolo marginale nell'Unione e i lettoni sentono questo elemento e la partecipazione alle europee è spesso poco sentita. solo il 33% dei potenziali elettori ha infatti votato a questa tornata elettorale. In Lettonia poi circa il 10% dei cittadini una larga parte della minoranza russofona emigrata dalla Russia dopo la fine della guerra fredda non può votare in quanto non goda di tutti i diritti civili. Ad ogni modo il paese è guidato dal 2023 da Evica Silina che dirige un governo centrista. Il suo partito nuova unità di centro centrodestra vince le elezioni con il 25% dei voti e due seggi. Segue poi l'Alleanza Nazionale partito nazionalista è di destra ma non euroscettico che guadagna il 22% dei voti e vince anch'esso due seggi. I due partiti progressisti guadagnano il 7% ciascuno mentre va molto male il partito contadino che sostiene Silina che prende zero seggi. Il partito prima la Lettonia di estrema destra e filo russo guadagna poi un seggio con circa il 6% dei voti. Infine l'Estonia è il paese più piccolo dei baltici paese guidato da Caia Callas dal 2021 e ora al suo terzo governo una coalizione di partiti di centro e centro-sinistra. Il partito che guadagna più consensi è quello dell'opposizione di centro-destra di Isama che prende il 21% e due seggi. I social democratici alleati di Callas prendono il 19% e anche loro due seggi mentre il partito dei riformisti di Callas arriva solo terzo e prende un solo seggio fermandosi al 17%. Caia Callas vede dunque la sua opposizione a indebolirsi mentre il partito di estrema destra popolare conservatore Ecre arriva a prendere il 15% dei voti e un seggio. Il partito è allo stesso tempo euroscettico e nazionalista Estone in chiave antirussa e vuole reprimere i diritti della minoranza russa nel paese. Quante sfumature ci sono là fuori. E vogliamo adesso in Ungheria e Slovacchia i due paesi che hanno i governi più euroscettici e nazionalisti dell'Unione e che hanno portato diverse sorprese. In Ungheria il feudo di Viktor Orban si votava contemporaneamente alle elezioni locali e le elezioni arrivano dopo un periodo politicamente terribile per Orban. Il primo ministro era stato coinvolto pochi mesi fa nello scandalo della clemenza connesso ad un caso di grazia concesso ad un uomo sospettato di reati di pedofilia dalla presidente ungherese alleata stretta di Orban. La presidente ungherese e l'allora ministra della giustizia furono costrette a dimettersi mentre il marito della ministra della giustizia Peter Magyar è emerso poi come un forte avversario di Viktor Orban. Magyar ha preso il controllo di un piccolo partito Tizza e ha cominciato a denunciare la grande corruzione del regime orbaniano attaccando anche la sua ex moglie e raccogliendo incredibilmente dei grossi risultati. Dunque come sono andate le elezioni? Beh Viktor Orban e il suo partito Fides si confermano comunque primi indiscussi con il 44% dei voti e 11 seggi due in meno rispetto al 2019. Orban ha condotto una campagna elettorale molto violenta nelle parole denunciando l'opposizione di Magyar e la sua presunta intenzione di voler portare l'Ungheria nella terza guerra mondiale. Il ministro degli esteri del governo di Orban aveva poi anche raccontato che l'Unione Europea vorrebbe arruolare i giovani ungheresi in una sorta di servizio militare obbligatorio notizia che ovviamente è falsa dato che l'Unione Europea non ha nemmeno una competenza del genere. Tizza il partito di Magyar invece raggiunge uno spettacolare 30% dei voti e sei seggi conquistati. Ricordiamo comunque che Tizza è un partito di destra o centro-destra fondato da un ex alleato di Orban che condivideva buona parte del suo pensiero. Ad andare male invece è il resto dell'opposizione ad Orban con il partito moderato pro-europeo Alleanza e Dialogo all'8% e due seggi. Il partito di estrema estrema destra il movimento della nostra patria invece arriva al 7% e conquista un seggio. Finiamo questa zona con la Slovacchia ora dove il primo risultato interessante arriva dall'affluenza il 33% degli eventi diritto è andato a votare che potrebbe non sembrare molto ma nel 2019 la partecipazione fu del 22% dunque un record storico di partecipazione. La campagna elettorale in Slovacchia è stata pesantemente influenzata dal tentato omicidio al primo ministro Robert Fizzo che il 15 maggio scorso è stato colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente il primo ministro è in via di guarigione ed è stato anche in grado di votare per queste elezioni. Ma oltre questo come in molti altri paesi dell'est Europa la disinformazione è stata molto pesante e diversi membri di Smer il partito di Fico e di altri partiti estremisti hanno accusato i partiti più centristi e i media liberali di aver polarizzato la società e sostenuto l'odio contro Fizzo causandone l'attentato. Ma venendo ai risultati la coalizione di governo che sostiene Fizzo quella del suo partito di sinistra conservatrice Smer e del partito alleato Hillas del presidente eletto Peter Pellegrini ha subito un risultato deludente. Il partito progressista slovacco di Michele Scimeca di centro moderato e pro-europeista conquista sei seggi e il 27% dei voti contro il 25% e i cinque seggi di Smer e di Hillas. Due seggi sarebbero poi andati a Repubblica a un partito di estrema destra ultra-nazionalista e con una certa predisposizione al neonazismo. Bene, si vede la luce in fondo al tunnel ci abbiamo alla conclusione. La Croazia. Il paese era appena andato ad elezioni nazionali pochi mesi fa e aveva riportato il primo ministro Plenkovic a capo del governo con il suo partito dell'Unione Democratica Croata. Plenkovic aveva dovuto però fare un'alleanza con il partito di estrema destra movimento patriottico per riuscire ad avere una maggioranza all'interno del Parlamento. Le elezioni europee qui confermano il risultato con Plenkovic al 34% dei voti e che vince sei seggi al Parlamento Europeo. L'estrema destra alleata del movimento patriottico guadagna l'8% e un seggio. Poi il partito social-democratico Fiumi di Giustizia del presidente populista Zoran Milanovic guadagna qualcosa rispetto alle scorse elezioni arrivando al 26% e quattro seggi. Noi Possiamo Partito Verde conquista il 6% e il suo primo seggio al Parlamento Europeo. E la nostra vicina Slovenia invece guidata dal 2022 dal progressista Robert Golob. Il paese era stato immerso nelle scorse settimane sulla discussione intorno al riconoscimento della Palestina come stato e allo stesso tempo la Slovenia andava al voto su tre referendum. Si votava su una proposta di legge sul fine vita sulla legalizzazione della cannabis e sul voto di preferenza. L'ex primo ministro populista Gianni Zianza aveva usato questi referendum e la questione palestinese per fare campagna contro Robert Golob e le sue posizioni progressiste. Ad ogni modo i risultati mostrano che il partito democratico sloveno di Jansa vince la sua scommessa e raggiunge il 30% dei voti e arriva a 4 seggi mentre il movimento della libertà di Golob si ferma al 22% e 2 seggi. Il partito verde poi guadagna un seggio così come i social democratici mentre il partito populista di estrema destra Reznica che si oppone anche ai vaccini e alla diffusione della rete 5G non raggiunge la soglia di sbarramento e prende 0 seggi. Ce l'abbiamo fatta ultimo blocco. Cominciamo dall'Irlanda il paese è uno dei più ricchi dell'Unione Europea almeno sulla carta anche qui la campagna elettorale è stata molto accesa a causa di una crisi immobilare molto seria e molto sentita e dall'emergere di sentimenti xenofobici sebbene nel paese storicamente non vi siano partiti di estrema destra L'immigrazione è diventata un tema centrale nella campagna elettorale in quanto vista anche come una delle cause dell'aumento dei prezzi delle proprietà immobiliari Ci sono stati poi diversi incidenti e attacchi xenofobici contro strutture che ospitavano richiedenti asilo e anche rifugiati ucraini Il Taiseach il primo ministro irlandese è Simon Harris oggi del partito del Feingael di centrodestra che ha recentemente preso il posto di Leo Vardakar che ha deciso di ritirarsi dalla politica Il Feingael non stava passando un ottimo periodo politicamente con numeri bassi nei sondaggi tutto in vantaggio del principale partito di opposizione Sinn Fein di centro-sinistra guidato da Mary Lou MacDonald Al momento in cui filmo questo video i risultati definitivi delle elezioni europee-irlandese non si sono ancora materializzati ma guardando alle elezioni locali che si sono svolte contemporaneamente possiamo anche fare qualche previsione Il partito di governo di Feingael avrebbe resistito ad una debacle completa mentre lo Sinn Fein avrebbe ottenuto dei risultati disastrosi Questo potrebbe essere un risultato dovuto alle posizioni meno dure sull'immigrazione del partito di centro-sinistra che non avrebbero premiato tra l'elettorato Ad ogni modo non sono risultati completi vi consiglio di tenere d'occhio l'Irish Times se volete saperne di più Piccolo aggiornamento del giorno dopo sulle elezioni europee in Irlanda non ci sono ancora i dati definitivi ma le previsioni sembrano confermate i partiti di governo hanno battuto lo Sinn Fein l'opposizione socio-democratica di sinistra all'incirca di 10 punti quindi il Feingael e il Fiannafeil avrebbero preso intorno al 20% mentre lo Sinn Fein intorno al 10% Di nuovo non sono ancora dati definitivi andate a controllare Wikipedia o l'Erich Times se volete dati più certi In Austria ora un altro paese dove l'estrema destra ha ottenuto i risultati migliori l'FPO il partito delle libertà di estrema destra è il primo partito con 6 seggi e il 25% dei voti il partito è resuscitato grazie alla leadership di Herbert Kickl trovando una nuova forza dopo lo scandalo di Ibiza che avevano colpito l'ex leader Christian Strauss alleato di governo dell'ex primo ministro Sebastian Kurz al momento in Austria c'è un governo di destra verdi guidato dal cancelliere Karl Nehammer l'OFP il partito di centrodestra arriva qui secondo dietro l'FPO al 24% mentre i Verdi si fermano solo al 10% i Verdi tra l'altro erano guidati da una 23enne Lina Schilling che era stata al centro di uno scandalo nelle ultime settimane dopo la rivelazione che lei avrebbe ammesso di voler lasciare il partito dei Verdi dopo le elezioni portando ad una larga perdita di consensi i socialdemocratici poi arrivano al 23% e prendono 5 seggi mentre Neos il partito liberale arriva al 10% e chiudiamo questa lunghissima discussione con Malta il paese più piccolo dell'Unione dove anche qui si votava anche per elezioni locali le elezioni europee sono state vinte dal partito di governo il partito laborista al potere dal 2013 e dal primo ministro Robert Abela il partito ha conquistato il 45% dei voti e vince tre seggi le elezioni poi sono ruotate attorno dalle accuse di corruzione per questo partito laborista e per l'ex primo ministro Joseph Muscat e altri suoi colleghi il primo ministro Abela ha cercato di motivare gli elettori a votare Labour per denunciare un uso politico della giustizia contro il partito labor e per attaccare l'opposizione del partito nazionalista Abela ha difeso Muscat dichiarando che si tratta di accusa e che si deve garantire la presunzione di innocenza c'è anche da ricordare che Malta è il paese in cui fu assassinata la giornalista Daphne Caruana Galizia nel 2019 e fu questo omicidio portare Muscat a dimettersi poi dall'altro lato il partito nazionalista guidato da Bernard Grech si ferma poco dietro al 42% e Grech ha definito questo come il miglior risultato di sempre per il suo partito Roberta Mezzo la Presidente del Parlamento Europeo e candidata del partito nazionalista ha preso una valanga di preferenze ed è stata riletta con facilità bene se siete arrivati alla fine di questo video siete dei pazzi no sto scherzando grazie per aver tenuto botta fin qui i risultati delle elezioni europee sono complessi e in questo video abbiamo potuto apprezzare in parte questa complessità e spero abbiate potuto approfondire un po' questo evento guardando oltre ciò che di solito attira l'attenzione in Italia ma ho già parlato troppo mi avvio a concludere e tralascio analisi di questo voto e altro per futuri video ricordandovi solamente che sì queste alla fine erano 27 elezioni nazionali e le tematiche europee sono state affrontate più ad un livello local nazionale in tutti i paesi più o meno come si è fatto in Italia grazie ancora per essere stati con me iscrivetevi se il video vi è piaciuto e vi ricordo che i nuovi video sono in arrivo a presto